Salve amici e benvenuti a una nuova puntata, e benvenuti a una nuova puntata, e anche le festività che ho creato io, perché il gioco ci faceva trovare il festival invernale che io ho risoprannominato Natale. Ho cambiato qualcosina qui, queste sono le attività, spirito festivo, apri doni, pasto grandioso, babbo inverno, dai dei doni. Invece la vigilia l'ho creata proprio io, e ne approfitteremo per decorare la casa a Natale. Ho aggiunto gli ignomi festivi, perché magari sono carini, pasto grandioso, perché è comunque la vigilia, quindi si magna, spirito festivo e racconta delle storie. Ho pensato che per i bambini magari è carino raccontarli, perché no, di babbo Natale. Per il momento ho impostato le stagioni, o meglio, ho lasciato le stagioni a sette giorni, perché vorrei farci un po' una panoramica di quelle che sono tutte le stagioni, con le varie famiglie che seguiremo prossimamente, per poi magari impostarle, credo, a 14 giorni, credo sia la cosa ideale. Comunque, oggi siamo con la famiglia di Beatrice e Gianluca, e siamo qui con Anna al ristorante. Perché? Perché vale lo stesso discorso che abbiamo fatto con Margaret. Vi ho spiegato che mi piace, sì, rimanere in casa con i genitori, almeno uno dei figli in genere, però mi piace anche che i ragazzi abbiano la loro privacy. E in casi come questo, ovvero in cui abbiamo un'attività di famiglia da mandare avanti, a maggior ragione non posso separare, in questo caso, Anna, perché vorrei che portasse avanti il ristorante, però vorrei che vivesse sola, separata dai genitori. Quindi, siccome avevamo questo spazio al di sopra del locale, ho creato un piccolo appartamentino per lei, che ora è anche decorato un pochino a Natale, però il resto lo faremo insieme. Allora, eccoci qua. Questo è il piccolo appartamento, carino però, tutto sui toni del bianco e del rosso. Qui c'è la cucinina, abbiamo l'albero da decorare insieme. E di qua si va in camera da letto. Oh, c'è un ognomo! Che cosa carina! Non l'ho ancora vista come interazione. Questa è la camera e di qua c'è il bagno. Eccolo qua. Un appartamentino piccolo, però carino e funzionale. Nello scorso video ho fatto un breve video musicale. Abbiamo visto un pochino l'autunno. Ho organizzato una festicciola di Halloween, perché avevamo anticipato queste cosine nella live che ho registrato il giorno in cui è uscito Stagioni. Invece oggi, appunto, ci dedicheremo un po' in parte all'inverno e al Natale. Allora, Anna dov'è? Vorrei che venisse qui. Avrete visto sicuramente le sue peripezie. Noi ci eravamo lasciati con Anna molto dubbiosa in un periodo veramente difficile, perché Alfred, il suo fidanzato storico ormai dall'adolescenza, le ha comunicato di doversi trasferire all'estero per un certo periodo per lavoro. Lei sul momento l'ha presa un pochino male e si è trovata sola a gestire una situazione difficile, perché ha cominciato, vi lo dico in breve se non avete visto lo scorso video, a ricevere minacce anonime per essersi intromessa nella tradizione vampiresca quando, a suo tempo, ha aiutato Alfred a trasformarsi in umano, a guarire dal vampirismo. Non ha detto nulla ad Alfred di questo, perché la lontananza ha creato un po' di problemi di coppia, hanno avuto difficoltà a sentirsi anche telefonicamente perché non si trovano con gli orari, lui è sempre impegnato al lavoro, eccetera, eccetera. Anna ha conosciuto in quel periodo un ragazzo che si è proposto di aiutarla a scoprire di più per quanto riguarda questa storia dei vampiri, dicendosi un esperto, quantomeno un appassionato dell'argomento. Vivendo già un momento duro, Anna si è lasciata andare perché lui è stato molto bravo a corteggiarla e quindi lei ha ceduto alle sue avance. Non si è lasciata con Alfred, loro hanno continuato a sentirsi così sporadicamente con la promessa di riparlare del loro rapporto al suo ritorno. Ora Anna ha ricevuto la telefonata di Alfred, le comunicava di rientrare in anticipo da questa sua esperienza di lavoro, quindi Alfred sta tornando e sta tornando apposta per Natale. Ora Anna è confusa perché lei è sempre stata innamorata di lui, ha avuto questa crisi, però non aveva perso il sentimento per Alfred e perciò è stata felice di questa notizia, di saperlo di nuovo a casa. E niente, ora vedremo come si comporterà. Per il momento lo sta aspettando qui a casa. Ed ecco ragazzi, dopo diversi mesi, diciamo, Alfred è arrivato. Guardate che carino con questo look invernale. Tra l'altro vi piace con il nuovo taglio, a me piace molto. Allora, innanzitutto abbraccio affettuosamente e poi gli diamo un bacio. Ok, vedete, lei comunque è felice ragazzi, è felice. Questa ragazza è confusa. Allora, lei è fredda a causa della temperatura, ma siamo in casa, ha anche il maglioncino. Vabbè, comunque volevo vedere questo gnomo prima di tutto. Cosa dobbiamo fare? Allora, contenta lo gnomo, calcia lo gnomo, ma no, perché lei è perfida. Canta insieme, no, sì è perfida. Canta insieme, critica il lavoro. Allora, dai il cubo del futuro, dai il caffè, dai il giocatto, dai l'inziata, dai la torta. E gli diamo la torta. Natale inizierà domani, sì. Oggi appunto siamo alla vigilia, lo smanaccio, è in città, ma vabbè, non ci interessa molto. Loro intanto chiacchierano. Sì, dai, ora avrete tempo per parlarvi. Tiziano ci sta chiamando, forse vuole farci gli auguri di Natale, ma lo vedremo domani, sì, l'indomani, sicuramente. Ah, vedete qui gli ha dato la torta? Uh, ha messo l'aureola, tradizione completata. Carino, ora dovrebbe darci qualcosa in cambio. Comunque sono le dieci e mezza del mattino della vigilia di Natale. Ragazzi, ma guardate che belli i vetri ghiacciati. Io direi di metterci a decorare l'albero. Che ne dite? Allora, decora con base di tessuto dell'albero. Possiamo scegliere i colori. Poi in sezia rossa e dorata. Abbiamo poco spazio qui, però... Guardate che carina! No, allora facciamolo insieme, perché ci mette un po' di tempo. Non vorrei che lui se ne vada. Eh, no, come avevo fatto? Eh, vabbè. Allora, decora con ghirlanda, popcorn e mirtilli rossi americani, campane... Dai, questa, carina! Ecco, decora con Alfred. Che carini! Dai, che cosa è romantica che lui è tornato proprio per Natale e sono qui a decorare l'albero. Chi è che ci chiama Giada? Mi prudono le mani e devo assolutamente smanettare con qualcosa. Ti andrebbe di trafficare con il raggio? No, Giada, dai, la vigilia di Natale! Loro intanto flertano. Ma questa ghirlanda? Non la vedo, ragazzi. Allora, decora ornamenti... Rosso e oro. Però non vedo nulla. Forse è troppo incastrato qui dietro. Lei ha freddo. Allora le metto il cappotto. Ok, è dentro casa, ma vabbè. Vediamo un attimo se spostandolo... No, ma in realtà dovrebbe... No, lo spazio c'era, ragazzi. Vabbè, continuiamo. Puntale. Moderno, rosso e bianco. Poi facciamo... Accendi, no, dovrebbe essere già acceso. Non so se possiamo cambiare le luci. Ah, ok, il puntale si vede, però la ghirlanda e tutto il resto no. Neanche la base. Ah, guardate com'è luminoso. Però non vedo le decorazioni. Facciamo un mero le luci insieme. Canta insieme. Che carini! Proviamo le altre canzoni. Ma che forza, ragazzi. Hanno rifatto le canzoni natalizie, vede? Con la lingua Sim. Che cosa bella. Proviamo questa. Ah, questa jingle bell! Ma questa è Happy Birthday! Comunque hanno una bella voce. Ma che bella voce, ragazzi. Comunque, come altri compiti, diciamo, della vigilia, abbiamo Passo Grandioso, anche se Anna ignora la tradizione, quindi non le interessa. Lei è già felice di aver fatto queste due. Un banchetto particolarmente allettante attende gli stomaci che brontano con trepidazione. E Spirito Festivo. Anna ignora la tradizione per essere snob. Comportati in modo festivo e allegro con amici e familiari. Per partecipare esegui interazioni sociali festive come accendere l'albero festivo, chiedi se è stato buono o cattivo, o risata viscerale. Ok. Allora direi di preparare qualcosa di buono. Chiedo anche ad Alfred di restare per la notte, così non dovrebbe andare via. No, facciamo chiedere di passare del tempo assieme e poi ci mettiamo a cucinare. Così faremo una cenetta romantica della vigilia. Qui leviamo questa scatola per il momento. Però ragazzi, a me non mi convince quest'albero che non è decorato. E dicevo che invece domani andremo, l'indomani andremo a casa con i familiari per festeggiare tutti insieme. Ma questo è un altro gnometto. Accontenta l'ognomo. Gli diamo una torta alla frutta. Quello di prima se n'è andato? Sì. Oh, l'abbiamo accontentato. Ragazzi, ma Alfred se n'è andato? Sì, è andato via, richiamiamolo. Ragazzi, però visto che è pomeriggio e ancora non hanno fame, direi di metterci a fare un po' pazzo di neve. Comunque, ma la meraviglia dell'acqua ghiacciata. Cioè, non ho parole, veramente. Allora, sì, dai, mettiamoci a fare un po' pazzo. Costruisci un po' pazzo di neve insieme. Oh, qui qualcuno ha fatto un angelo. Che bello. Ah, lei poi gli si è ammalata di risatine. Dobbiamo apprendere la medicina. Che carini. Alfred, dai una mano su. Che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia, ragazzi. Ragazzi, ma ha fatto tutto lei. Che carino. Ma sembra lei, ragazzi, col cappellino. Oh, si abbracciano. Che scena romantica. E vabbè, speriamo che Anna faccia un po' di chiarezza dentro di sé. Che questo Natale la aiuti. Ora, vuole andare a mangiare? No, direi piuttosto di cucinare. Allora, intanto andiamo qui insieme. Se no, ce lo perdiamo. E cucina un posto grandioso. Che è una nuova interazione di stagioni. Possiamo fare una colazione grandiosa. Una cena a base di prosciutto. Ecco, non so se servono per forza quegli ingredienti. Se seleziono questo. Cena a base di pesce. Cena a base di tacchino al tofu. Cena a base di tacchino. Allora, in genere la vigilia si mangia pesce. Quindi, vediamo se riusciamo a farlo anche senza il pesce fresco. Ah, Gianluca ha lavorato anche oggi. Pare, però intanto si sta specializzando nella cucina. Quindi, chi lo sa, domani potrebbe forse diventare il suo mestiere. Chi può dirlo? Ok, il piatto è pronto. Ed è eccellente, ragazzi. Questa fanciulla ha una dote. Ha un futuro. Alfred, volevo dirti di apparecchiare la tavola. Ma non posso comandarti. Ah, mi sa che non posso apparecchiare con questa rosellina. Però dovremmo riuscire a mangiare. Ma non mi dire che se n'è andato di nuovo. Sì, Alfred. Ma insomma, ma non vuoi stare qui? Sì, sei appena tornato e te ne vai. Allora fa bene, Anna, a dubitare. Ok, ragazzi. Stavo pensando che Anna ha freddo anche dentro casa. Perché non avevo messo il termostato. Mettiamo più caldo. Costa di più. Però, almeno in casa, non dobbiamo stare col cappotto. Giustamente. Allora, 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 allora. Facciamo. Prendo una porzione insieme. Ma come Anna non può sederci a un tavolo che non ha richiesto? Perché siamo al ristorante. Ok, vabbè. Mangiano così. Ognuno per conto proprio. Invita a restare per la notte. Ok. Ma fanno come Babbo Natale. Oh, finalmente si siede. Poi possiamo... Condividi lo spirito di Vigila di Natale. Ovviamente hanno diverse cose da raccontarti. O meglio, poiché altro Alfred. Perché Anna è meglio che non racconti niente di quello che le è successo. La Vigilia di Natale ha avuto successo. La festività Vigilia di Natale è stata formidabile. Anna si è divertita un mondo ed è riuscita a fare tutto quello che aveva programmato. Ok, ragazzi. Sono venuta a casa da Beatrice e Gianluca. Qui ho messo questo albero già decorato. Decorazioni in giro come questi bigliettini. La lanterna. Questa decorazione alla porta. E qui in cucina ho messo provvisoriamente questo tavolo grande per il pranzo di Natale. Ora, sono le 7.45 del mattino. Beatrice è energica, quindi bene così. E si mette a preparare il pranzo di Natale. Perché si sa che ci vuole tempo e bisogna iniziare la mattina presto. Matisse, che problema c'è? Sentiamo, ci pensa Gianluca. Ma guardati che carini questi due. Leggevo di Babbo Inverno che arriva alle 20 vicino ai camminetti. Ma perché alle 20? Ero indecisa infatti se metterlo la vigilia o Natale. Ma pensavo arrivasse alla mezzanotte del giorno di Natale. Quindi non volevo che arrivasse in anticipo. Beh, non star nutire sul tacchino. E vabbè, pazienza. Ok, il tacchino è pronto. È un po' presto in realtà. Lo mettiamo in frigo perché non vogliamo che vada male. Ma abbiamo ancora da fare. Dobbiamo apparecchiare la tavola. Facciamo coperto da festa. Blu, sì. Ok, e direi di cominciare ad invitare gli ospiti. Facciamo, non facciamo, non creiamo l'evento perché c'è già la festività. Ma guardate Davide. Allora, invitiamo Anna che è fuori casa. Quindi la invitiamo così. Alfred, Tiziano e Ivan che è la sua fidanzata ufficiale. Anche se questi fratelli mi stanno combinando di ogni. Ah, poi avevo messo le decorazioni, ma poi siccome ho cambiato l'otto mi sa che se ne sono andate. Quindi dobbiamo riprendere la scatola e rimetterle. Lo facciamo così al volo. Seleziono le decorazioni per i decora i recinti. Avevo messo queste lucine. Allora, lui si sta facendo la doccia, quindi Anna fa entrare tu gli ospiti. Oh, i due fratelli si abbracciano. Tiziano è vestito a casaccio perché non ho ancora scelto gli abiti per lui, per le altre famiglie. Quindi vabbè, ce lo teniamo così. A questo proposito stavo pensando di fare una live perché ci siamo divertiti tantissimo nella live della scorsa settimana. Magari venerdì, anziché pubblicare un video classico di fare una live venerdì sera. in cui vi presento un po' tutte le famiglie all'attivo ora. Una cosa che può essere utile per tutti i nuovi iscritti. Volevo poi così approfittarne per scegliere tutti i loro look invernali e estivi. Per essere pronti ad ogni evenienza, ecco. Ok ragazzi, vedo che Romeo sta già apprezzando il tacchino. E anche Anna, anche Anna, perché li ho lasciati un attimo per vestire tutti i sim coordinati con i maglioncini natalizi. Ragazzi, se no che Natale è? Che Natale è? E quindi sì, ho vestito tutti, abbiamo messo le lucine. Direi che non manca niente e Beatrice puoi venire qui e chiamare al pasto grandioso persino il nostro Romeo. No, lo sto mangiando il tacchino, no! Fermatelo Anna, digli qualcosa. Fai una ramazzina sul mangiare il cibo umano, mi sembra giusto. Comunque sto registrando questa parte il mattino seguente, quella precedente. E non so, mi ha preso tipo un'allergia. Quindi se mi sentite un po' chiusa è per questo. Che carini sono con i maglioncini? Troppo. Però dovete stare seduti, non fatemi arrabbiare. Creiamo un gruppo e sedetevi tutti, se no mi arrabbio. Ok, Romeo, continua a farci compagnia sul tavolo. Gianluca, siediti, sedetevi. Ragazzi, ma come fanno gli altri a farli stare tutti a tavola felici e contenti? Io non ce la faccio. No, raga, non ce la possiamo fare mai. Va bene, pranzo di Natale in pieni. Proprio anarchia, loro si danno i baci, ognuno fa come gli pare. Però si baciano tutti, dai, lo spirito natalizio c'è. Forse ce la facciamo? No, no, impossibile, missione impossibile. Vabbè, dai, comunque, come immagine, è carina. Tra l'altro ho cambiato anche i vestiti di Tiziano e Ivan, perché non li potevo proprio vedere al di là del maglioncino. Cioè, erano una cosa inguardabile. E loro due continuano a baciarsi, hanno a fare le feste al gatto. E va bene. Poi, dobbiamo aspettare le venti che arrivi Babbo Natale. E anche scambiarci i regalini dopo pranzo. Ah, poi non vi ho fatto vedere. Innanzitutto che, vabbè, ho messo i nuovi capelli. Vabbè, la vedete forse meglio da qui. Con la frangetta, carina, carina. Poi, visto che sta andando al piano di sopra, vi mostro i cambiamenti che ho fatto da quando Anna è andata via. Innanzitutto ho cambiato la camera da letto di Beatrice Gianluca, perché, ragazzi, non mi piaceva come l'avevo arredata come mobili. Quindi ora è così, abbiamo le cucciette dei gatti. E così, carina. Poi, qui ho aperto, perché di due stanze non ci facevamo più nulla, non ci servivano. Ah, qui ho lasciato questa lampada a volante, vabbè. Ho creato questo studio, ho tolto la scrivania dal piano di sotto, ho messo queste poltroncine. Qua c'è sempre il bagno. E invece qui ho lasciato una sola camera da letto, però matrimoniale, diciamo, per gli ospiti, per i loro figli, quando vogliono. venire a trovarli. Eccola qua. Ok, adesso veniamo tutti in saloppo. Ammiriamo l'allegria festiva. E per quanto riguarda i doni, si può regalare qualcosa che sia nell'inventario, però purtroppo non ho pensato a nulla. Quindi, quindi, vediamo un po'. Allora, Beatrice, magari si scambia il regalo con il marito, ovviamente non posso farlo con tutti, purtroppo. Dai il regalo di Natale. Ah no, possiamo scegliere anche cosine da qui. Allora, figurine, parte per aggiornamento idraulico, abiti piegati. Ah no, sì, sono le cose che lei ha nell'inventario. Cosa gli regaliamo? Gli regaliamo gli auricolari. Ma sì, dovevo pensarci prima, ragazzi. Comunque, vorrei vedere l'interazione. Ma che bello il pacchettino regalo! Carinissima questa cosa. Gian, tu a tua volta cosa le regali? Allora, abbiamo auricolari rossi, magari se li scambiano. Foto della scena del crimine, non mi sembra il caso. Fagiolo magico triste neanche. Frutti. Sì, dai, si scambiano gli auricolari che avevano. Dai, quello che conta è il pensiero. Comunque carinissima come cosa che hanno aggiunto. E poi posso farlo solo con Anna, che può dare un regalino ad Alfred. Allora, il compagno sul Vampiro Supremo, non mi pare il caso, lasciamo perdere questo argomento. Magari, non so se fargli un regalino per il suo gatto, che è comunque un pensiero carino. o se dargli il tabletto, ma dai, diamogli un regalino per il gatto. Ok, ragazzi, quello che conta è il pensiero. Lei perché è triste il regalo? Non apprezzato! No! Dice questo è per il gatto, non per me. C'è stato il tentativo di fare un bel gesto, ma ci sono cose che proprio non sembrano essere apprezzate. Ma dai, Alfred, su! Per lui non conta il pensiero. Vabbè, allora mettiamo su un film, che dai, dopo il pranzo di Natale ci sta, e guardiamo un film insieme. Il ritorno a casa del cane sperduto. Nell'attesa di Babbo Natale. Tiziano deve proprio andare. Mannaggia, non aspetta con noi Babbo Natale. Vabbè, comunque noi attendiamo. Anche Alfred se ne va, anche Ivan, se ne sono andati tutti. Vabbè, siamo rimasti solo noi. Mentre loro fanno le loro cose, io mi metto qui, come una bimba vicino all'albero di Natale, ad aspettare Babbo. Eccolo! Chiedi un dono. Questa sarà una cosa veramente carina quando avremo dei bambini in casa. Babbo inverno ha dato un dono a Beatrice, ha ricevuto un poster topo motivante. Sorpresa! Allora, oh, quante cose abbiamo ricevuto? Una parte per aggiornamento idraulico, aggiornamento elettronico della cucina e comune. Vabbè, non è proprio il regalo ideale per una ragazza. O comunque per Anna, però vabbè. È comunque carino l'effetto sorpresa. Evviva! Babbo inverno ha portato Gianluca un regalo nuovo di Z, che è talmente grande che è stato depositato nel tavolo familiare. Ha ricevuto il tabletto? Va bene. Grazie, Babbo! Ora ci salutiamo con un'immagine di Willow Creek coperta di neve. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo siete già, lasciatemi un pollicino in su e un commentino, seguitemi sui social, ve lo dico sempre, specialmente su Instagram, perché restiamo sicuramente in contatto. Ci vediamo, se tutto va bene, venerdì con la live. Credo di farla venerdì, quando dovrebbe uscire l'episodio, che quindi non uscirà il pomeriggio, ma ci vedremo direttamente di sera. Comunque poi vi aggiorno appunto su Instagram. Io vi mando un grande bacio e a presto!